Atevamo a fare bene il tre gru di baglie basche che fosse Guarda che era proprio grossa l'altra Le campane della valle sono una morte, sono una morte a chiacceggio, si muore del male brutto che non si dice, ma è brutto davvero perché non lo vedi, si nasconde nei fumi della fabbrica, nell'aria, che respiri nell'acqua del fiume, ti entra dentro a poco a poco, ti scava sotto pelle, finché un giorno non vai a pisciare e pisci sangue, cazzo bisogna andare dal medico, non si preoccupi, sarà una cestite, un'infiammazione alla prostata, non siamo mica più giovani come una volta, lei viva tanta acqua, prenda qualche infiammatorio e dica a sua moglie di non cucinare piccante per un po', mi raccomando, mi saluti sua moglie che è una cara donna, arrivederci, arrivederci dottore, arrivederci. Grazie a tutti, grazie a tutti.